Ben ritrovati amici di InfoCilento a questo nuovo aggiornamento meteo. Il tempo sta per cambiare in maniera drastica sul nostro territorio per via dell'arrivo di un nucleo di aria gelida di origine siberiana, nucleo che farà precipitare letteralmente le temperature che si porteranno su valori di parecchi gradi al di sotto della media stagionale. Andiamo a vedere qui da un punto di vista sinottico la situazione, avremo un asse di alta pressione disposto dalla Spagna fin verso la Scandinavia, al contempo una bassa pressione attraverserà nel corso della giornata di sabato il Mediterraneo e attirerà se l'aria gelida presente sui Balcani. Si tratta di un'irruzione gelida davvero intensa, basti guardare i valori in quest'altra cartina, eccoli, valori di tutto rispetto, fino a meno 10, meno 12 gradi alla quota di 850 etto Pascal, ovvero parliamo di circa 1400 metri di quota, il che vuol dire che a livello del suolo avremo temperature davvero basse, di pochi gradi al di sopra dello zero persino lungo le coste. Ma vediamo cosa ci attende sul cilento Vallo di Diano e Alburni nel corso del weekend, cominciamo con la giornata di sabato quando, come anticipato, avremo un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge che dalle coste si estenderanno sino alle zone interne e nevicate intorno ai mille metri di quota. Quota leve in calo poi nel corso del pomeriggio. In serata tenderà a migliorare ma avremo un rinforzo sensibile dei venti, dei quadranti settentrionali, segnale dell'arrivo dell'aria molto fredda dai Balcani. E passiamo proprio alla giornata di domenica quando avremo un sensibile calo delle temperature, irromperà l'irruzione di aria gelida con valori di molti gradi al di sotto della media stagionale. Basti pensare che le temperature massime saranno di pochi gradi al di sopra dello zero lungo le coste e prossimo invece allo zero o al di sotto dello zero nelle aree interne. Proprio nelle aree interne saranno possibili nevicate fino in pianura e non sono da escludere fiocchi sospinti dal vento persino lungo le coste. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.